André, c'è lì, come è appunto? André, vicino a Gio Peppino, a seppine, vieni a vedere i bambini, vieni, i bambini, a riposo, a riposo, a stasera. Dove sto riprendendo al buio, ho due lonti, no, non va scoprendo, al buio perché non vedo lo schermo, capito? Vabbè, ma così cos'è, dai, questo è tutto bene, non so più latino. Non fai, io non vi zio peccino. Sì, sì. Buongiorno, buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.